Cinque tipi di conversazione per interagire con chiunque. Allora, quali sono questi cinque tipi di conversazione? Il primo sono gli argomenti quotidiani. È una conversazione abbastanza comune, comunque tratta argomenti, il traffico, il tempo atmosferico, l'inquinamento, il C-vax, il no-vax, insomma, le cose quotidiane. Poi un secondo tipo di conversazione che puoi utilizzare è magari conversazione sugli altri. Avvengono tra due persone che si conoscono e hanno un certo livello, diciamo, di fiducia reciproca. Ovviamente questo non puoi farlo con altre persone. Si può parlare degli altri in modi diversi. È molto importante che tu parli bene degli altri. Quindi quando parli di qualcuno, parla bene. Non è assolutamente vietato parlare male degli altri perché è, diciamo, estremamente negativo. Questo tipo di conversazione di solito non rafforza il legame tra due persone se parli negativamente degli altri. È estremamente negativo. E se qualcuno parla male di qualcun altro, presta attenzione. Poi vi sono tipi di conversazione che, diciamo, è una sorta di monologo. Anche qua puoi utilizzarlo ogni tanto. Nella maggior parte dei casi, quando vuoi far conoscere il tuo pensiero, quando vuoi parlare di qualcosa, prova a fare anche dei piccoli monologhi su un certo argomento. Non esagerare perché l'ego è molto spesso presente in questo tipo di comunicazione e, diciamo, non dai la possibilità all'altro di esprimersi. Ogni tanto valuta di fare qualche piccolo monologo. Osserva se l'altra persona fa dei monologhi. Tieni presente che chi fa sempre monologhi è molto centrato sull'ego. Un altro tipo di conversazione è quella sui sentimenti. In questo caso, quando una persona parla dei suoi sentimenti, delle cose più profonde, delle emozioni, ti fa capire che c'è un grado di intimità, che si è raggiunto un grado di intimità. Se tu vai su queste tematiche, crei un grado di intimità. Quindi è fondamentale. Tra l'altro sono anche scambi molto gratificanti perché permettono alla persona di esprimersi e di conoscere meglio l'altra persona. Gli dai modalità di esprimere emozioni, sfogandosi da un certo punto di vista. E l'ultimo tipo di conversazione è condividere delle cose, condividere sentimenti, condividere delle situazioni. È un qualcosa di molto importante. Ti impara, ti insegna a comprendere l'altro. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Sociale, su TikTok. Ciao a tutti!